A Calcio Grazie abbiamo il fronte allenatore Schlau Nome? Rosario Età? Trentotto Professione? Aspirante a breccente agricolo Ti senti molto schlau? Quel che basta Spiega a tutti cosa significa Schlau si, significa furbo Qual è il nome della tua squadra? Red Star Perché Red Star? Stella Rossa per nostalgia Attualmente sei quindicesimo nella classifica generale, qual è il tuo obiettivo finale? E' arrivare in primo Vincere? Da quanti anni giochi a fantacalcio? Sono un dilettante, ma avrò la fortuna dei dilettanti Quindi per la prima volta vuoi vincere, ma penso che sarà difficile competere con i professionisti del calibro di Hurigan, Ermusampa, Dieguito, Invincibili, Poldo 46, Musco Team, Real Bari Hai paura di questi fantallenatori? Assolutamente Prima li raggiungo e poi mi faccio la stessa squadra per tenerli a distanza Chi è meglio, Ibra o Etò? Etò Snyder o Amsic? Amsic Julio Cesar o Abbiati? Julio Cesar Maicon o Capuano? Capuano Dimmi il giocatore che non deve mancare assolutamente nella tua squadra Pastore La squadra chiamata Calciopazzo è attualmente al 25esimo posto, che possibilità ha di vincere? Di arrivare a seconda e ce l'ha la possibilità Dimmi il concitivo passato di crossare Ma penso che non esiste Sai giocare a pallone? Pallone male In che ruolo? Difesa, numero 2 di voto Per quale squadra difi? Per il Catania La tua faccia dopo il gol di Mascara al Palermo dai centrocampo? Mai stato con un trans? Con un tram E con una donna? Si, con una donna si L'ultima volta che hai fatto sesso? Non ho la memoria corta, solo la memoria però Si può fare sesso durante una partita? Tutto si può fare durante una partita Tre donne che ti piacciono? Mia moglie E poi di solito mi piacciono le moglie dei miei amici cameraman La parolaccia che dici spesso? Minchia Che ti dicono? Dai, non me la dicono perché temono per la loro incolumità fisica Canta un coro da stadio Napoli nera, Napoli colera Siete il disonore dell'Italia intera Napoletano, lavora duro Che a Maradona devi dare pure il culo Cosa pensi della violenza nel calcio? La violenza nel calcio è lo sfogo dei tifosi che durante la partita si spersonalizzano Fai un urlo Una risata La faccia più brutta che puoi fare Toccati la lingua con il naso o il naso con la lingua Salute Calciuvazzi come farebbe il Premier Il Premier, non ho alcun spirito di emulazione come un del Premier